E' ormai un oggetto di culto che ha raggiunto l'enorme tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue, dall'inglese al giapponese. Il calendario storico dell'arma dei carabinieri presentato questa mattina è indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti che ne fanno, un prodotto apprezzato, ambito e presente sia nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro quasi a testimonianza del fatto che in ogni famiglia c'è un carabiniere. La pubblicazione del calendario è giunta alla sua 89esima edizione. Fin dal 1928 è stato puntuale interprete con le sue tavole delle vicende dell'arma e attraverso di essa della storia d'Italia. Un appuntamento fondamentale nell'ambito della nostra istituzione. Quest'anno viene presentato il calendario del 2022, anche quest'anno il tema è l'arte e le tavole sono il pregiato lavoro del maestro Sandro Chilla, della corrente transavanguardia e queste tavole sono arricchite anche da racconti dell'arma stilati dal grande Carlo Lucarelli. Quindi vi è un mix di opere pittoriche e racconti. Anche quest'anno noi vogliamo particolarmente ricordare uno dei nostri cardini della nostra istituzione. Quest'anno infatti ricorrono i 200 anni del primo regolamento generale dell'arma dei carabinieri che, rileggendolo oggi, racconta il nostro passato nel solco della tradizione. Perché anche lì uno dei primi obiettivi dei carabinieri era garantire l'ordine e la sicurezza pubblica a tutela della popolazione. L'Italia non si era ancora formata ma i carabinieri operavano già a tutela della popolazione.